Vi ho già parlato dei 5 errori più diffusi tra i nuovi motociclisti, ma a grande richiesta in questo video vi parlerò di altri 5 errori veramente comuni e che dovete evitare se siete alle prime armi in moto. Il primo di questi 5 nuovi errori che praticamente ogni nuovo motociclista commette specialmente sulla sua prima moto è quello di investire un botto di soldi in accessori e farsela tutta per sé, perfetta, precisa. C'è solo un piccolo particolare che tutti gli accessori che monterà quella persona sulla moto, quando poi la andrà a rivendere, avranno un valore tendenzialmente pari a zero. Quindi, come avrete capito, un pessimo investimento dei vostri soldi. Sapete invece qual è un ottimo investimento? Le criptovalute. Io ho iniziato ad investire nelle cripto grazie ad una piattaforma chiamata YouOdler. Si tratta di un'app veramente semplicissima ma ipercompleta e in grado di aiutarvi alla perfezione a muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute. Potete utilizzare questa piattaforma sia sul vostro pc e sul vostro mac ma anche su iPhone e Android. YouOdler ha anche introdotto una funzionalità chiamata Cloud Miner che permette a tutti di generare criptovalute. E vi starete chiedendo come? Beh, è semplicissimo, tramite il mining. C'è infatti un sistema di reward con 8 livelli e sbloccando ognuno di questi livelli gli utenti possono ottenere dei bitcoin. Utilizzando queste scintille gli utenti attivano un blocco e iniziano il processo di mining che richiederà un periodo di tempo diverso a seconda del livello a cui vi trovate. E ad ogni livello che sbloccherete riceverete delle nuove scintille per lavorare su altri blocchi da miner. E completato il processo di mining ti basterà toccare il blocco su cui hai lavorato per ottenere i tuoi bitcoin. Quindi cosa stai aspettando? Vai subito nel link che trovi in descrizione, registrati a YouOdler e durante la registrazione utilizza il codice Andrea per ottenere un bonus sul tuo primo deposito. Altro che buttar via soldi in accessori per la prima moto. Il secondo errore tipico tra i principianti è quello di fermarsi troppo vicini a un veicolo che ci precede. È fondamentale infatti lasciarsi sempre un certo spazio di sicurezza perché magari quel veicolo all'improvviso può fare una retromarcia perché magari non vi ha visto. Oppure ci può essere un'altra situazione di rischio che richiede a voi di avere un certo spazio per evitarla. Quindi non vi fermate troppo dietro a un altro veicolo specialmente se parliamo di un van, di un furgone, di un pullman o di un camion che ha pochissima possibilità di vedervi nel caso in cui gli serva fare qualche manovra che voi non vi aspettate. Un altro esempio particolarmente rischioso è se voi vi fermate al semaforo dietro ad un'altra macchina e dietro di voi ne sopraggiunge un'altra molto veloce che non ha nessuna intenzione di fermarsi perché magari al telefono non ha visto che ci siete voi incolonnati. E quindi se non vi lasciate un certo spazio in avanti per fuggire per fare qualche manovra difensiva improvvisa beh farete un bel panzerotto barese proprio tra voi e le altre auto ci sarà un tamponamento a catena e voi sarete in mezzo non è proprio il massimo. E in questo se vogliamo anche se non si dovrebbe fare ma per un discorso di sicurezza ci torna utile cercate al semaforo in particolare di ottenere sempre la posizione più verso il semaforo più avanti in maniera tale da ridurre il rischio appunto di tamponamenti. E collegato a questo anche un altro consiglio quando vi fermate al semaforo in qualsiasi altra situazione di sosta non lasciate la moto in folle per due motivi essenzialmente il primo è che magari vi distraete e con la moto in folle questa inizia ad andarsene indietro e quindi rischiate comunque di cadere o che la moto vada in avanti non cambia nulla. Ma soprattutto essere lì con la marcia ingranata e con la frizione tirata vi permette in caso di necessità di fare manovre evasive immediatamente invece se siete con la moto in folle e dovete partire per evitare quell'auto che arriva veloce e non vi ha visto dovete mettere la marcia partire e perdete secondi preziosi in un momento in cui secondi da perdere già non ne avete. Invece se siamo fermi con la frizione tirata al semaforo con già la moto pronta ad andare se vediamo dallo specchietto qualcosa che non va alle nostre spalle siamo subito pronti per partire quindi non lasciate mai la vostra moto quando vi fermate in folle. Sempre connesso a questo quindi anche un po' agli altri uno degli errori più gravi che commettono i nuovi motociclisti è quello di non anticipare le manovre degli altri. Non anticipare che qualcun altro utente della strada faccia qualcosa di stupido anche se nel torto è comunque anche un nostro problema. Se c'è un'auto parcheggiata sul bordo della strada e quell'auto apre all'improvviso lo sportello e noi ci finiamo dentro al proprietario dell'auto romperemo certamente la portella ma noi ci faremo molto più male. Così come nella situazione in cui sappiamo di avere precedenza magari in rotonda ad un incrocio se diamo per scontato che ci sarà data quella precedenza rischiamo di trovarci in una situazione molto spiacevole in cui magari l'altro veicolo non ci dà la precedenza non ci vede proprio e anche lì noi ci faremo molto più male. Pertanto fondamentale specialmente mi tocca dirlo qui dalle mie parti dove il rispetto alla guida al di là del codice della strada il rispetto tra guidatori qualsiasi sia il mezzo non è quello più elevato che ci sia in Italia e in Europa e nel mondo. Cercate sempre di anticipare le manovre degli altri fate sempre mente locale a tutto ciò che accade intorno a voi e non date mai nulla per scontato. E come quinto di questi cinque nuovi errori molto diffusi tra i motociclisti alle prime armi c'è la frenata di panico ne abbiamo parlato più volte di questo argomento ma un nuovo motociclista deve sapere cos'è una frenata di emergenza c'è una bella differenza tra una frenata di emergenza e una frenata di panico. Magari su questo ci tornerò anche con un video dedicato perché credo serva approfondire ma in ogni caso quello che vi basti sapere in questo video è che se siete alle prime armi qualsiasi cosa succede intorno a voi il freno è il vostro più grande amico ma dovete saperlo usare. Specialmente su moto un po' più datate sprovviste di un elemento di sicurezza che al di là di come la si pensi sul discorso elettronica è fondamentale altrimenti non sarebbe obbligatorio per legge cioè l'ABS. Se non avete l'ABS dovete stare particolarmente attenti ma anche se avete l'ABS dovete stare particolarmente attenti nella situazione di pericolo in cui vi serve frenare. Se non avete l'ABS e fate una frenata di panico così semplicemente vi si blocca l'anteriore se va bene e scivolate se vi va male e avete una moto che frena tanto vi ribaltate quindi due situazioni che in ogni caso dovremmo cercare di evitare. Se invece come sulla mia MT09 avete l'ABS dovete comunque fare attenzione perché nel caso di una frenata di emergenza con l'ABS se la fate male la moto farà questo. Ci saranno tante piccole frenate l'ABS smorzerà la frenata per evitare che si blocchi l'anteriore e comunque la moto andrà avanti. Avrà una certa progressione in avanti anche se voi frenate completamente la potenza frenata e verrà smorzata proprio dal controllo elettronico che eviterà quelle altre due situazioni cioè che vi ribaltiate o che scivoliate. Quindi sia che abbiate sia che non abbiate l'ABS quello che dovete padroneggiare è la frenata di emergenza che si fa praticamente allo stesso modo del trail braking. Un video che avete visto in tanti lì si parla di ingresso in curva la frenata di emergenza è sostanzialmente un trail braking sempre però sul dritto perché ovviamente nella frenata di emergenza non dobbiamo piegare la moto altrimenti ABS o no il rischio di cadere c'è comunque. Quindi se c'è qualcosa che si verifica davanti a noi moto dritta e non facciamo questo non prendiamo i freni così ma tiriamo in maniera progressiva la leva fino a quando la moto non rallenta quanto deve rallentare. E' ovvio che dovrà essere comunque una frenata decisa ma progressiva sempre così mai così altrimenti l'ho già detto ma lo ripeto anche con l'ABS in quel caso se avete la moto un po' storta si può cadere lo stesso. Quindi ragazzi questi erano 5 nuovi errori che i motociclisti inesperti commettono sulla loro prima moto o anche sulle successive. Detto ciò fatemi sapere quale di questi errori avete commesso io li ho commessi praticamente tutti questi 5 e noi ci risentiamo come sempre in un prossimo video. Un grande saluto da Andrea e alla prossima!